Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi mostrerò che cosa ho ricevuto per il compleanno. Come sapete l'8 gennaio è stato il mio compleanno, ci ho fatto anche un video, poi il tempo di ricevere regali in vari giorni, cioè non si ricevano subito. Quindi aspetta un pochino e adesso vi porto questo video. In realtà penso che mi debba ancora arrivare qualcosa, però vabbè, non importa, non posso portarvi questo video il prossimo mese, sì che ve lo porto adesso. Scusate ovviamente se c'è casino ma ci sono i lavori qua fuori, sì che mi spiace. Comunque spero che questo video vi piaccia, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo di Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Passate dal canale di Fra, il Kisu, ve lo lascio qua sotto in descrizione, suona osta degli anime alla chitarra e andate ad ascoltare il mio album 8.18, anche quello in descrizione. Detto questo spero che il video vi piaccia, buona visione. Bene raga, eccoci qua, partiamo dal primo pacchetto. Preparatevi a tanta roba, vi faccio subito vedere. Ecco qua, che già potete capire, forse si intravede anche dalla figura. Ma adesso, questa è una lampada 3D, ovviamente a tema anime. E adesso vi faccio vedere di chi è. Proviamo a mettere la luce, forse si vede meglio, boh, vediamo un po'. Semmai la levo, la rimetto, vediamo ecco. Vi faccio vedere, ovviamente l'ho già usata diverse volte. Comunque, guardate un po' chi è. Ora magari non si, cioè si vede. Ragazzi è Naruto in modalità aeree mitica, adesso vi faccio vedere. Eccolo qua ragazzi. Abbiamo anche il cavo, direi di andare subito ad attaccarlo. Tra l'altro si possono usare, cioè può andare anche a batteria, però io preferisco attaccarlo, così almeno non consumo un sacco di batterie. Lo attacco alla presa della corrente, così posso tenere l'acceso quanto voglio. Ok, attacchiamolo e eccolo qua ragazzi. Guardate che spettacolo che è questa lampada. Non so perché qua in fondo sul vetro ci sono dei puntini bianchi, non dipende da me perché l'ho pulito e ripulito un sacco di volte. Boh, non so perché ci siano comunque, cioè si notano parecchio. Cioè ragazzi è bellissima. Poi guardate, lo dico per chi non la conoscesse. Cliccando qua cambia il colore. Vedete, rosso, verde, blu. Questo è giallo, anche se non si vede bene dal video. Azzurro di nuovo. Viola. Poi a intermittenza così. Intermittenza leggermente più lenta. Qua a sfumature diciamo c'è sfuma così. Questo uguale. Un po' così si spenge e così si riaccende ragazzi. Bellissima. Mettiamola qua da una parte e vi faccio vedere il resto. Ecco qua raga il secondo pacchetto. All'interno del quale troviamo... Preparatevi. Sì ragazzi, non so se avete già capito cosa sono. Guardate un po'. Le sfere del drago, signori. Ve le faccio vedere anche senza luce, sono quelle corrotte. Guardate belline. L'ho messe io in ordine. Uno, due, tre, la quarta nel mezzo perché quella con quattro stelline è quella più importante nelle sfere normali. Cinque, sei e sette. Bellissime ragazzi. Poi vedete con questo... Questo velo qua, bellissimo. Belle, belle. Anche la scatola, la confezione è molto bella. Qua vediamo Goku, qua sopra. Ora non ve la inclino troppo, sennò vanno tutte per conto loro. Comunque insomma, molto belle, molto molto belle. Ma ora le sposto insieme a Naruto perché devo farvi vedere qualcosa di più grande. Spero entri qua nella fotocamera. All'interno di questa busta abbiamo... Si intravede di già, lo tiro fuori, così almeno lo faccio vedere per intero. Ok, si vede già, già di più. Ragazzi, la felpa dell'organizzazione Alba, della Katsuki di Naruto. Non mi entra nemmeno in telecamere. Cioè, guardate che figata. È sintetica però. Cioè, guardate, ha le nuvolette come la veste della Katsuki appunto. Qui queste due nuvolette qua, di lato, questa qua nel centro. La tasca collegata. Nulla ragazzi, cioè non so come farvela vedere per intero. Comunque molto molto bella. Sì, la felpa dell'organizzazione Alba, ragazzi, ci sta un sacco. Eccomi raga, guardate se non mi sta. Che ve ne pare? Cioè, comunque mi sto bene. Poi c'è pure... C'è pure il cappuccio. Direi che ci sta, dai. E ora la metto da una parte per farvi vedere del resto. Poi raga, mi hanno regalato un cd. Questo l'hanno regalato i miei genitori, dove... Praticamente dentro ci sono dei video di quando ero piccolissimo. Nato da pochissimo. E quindi nulla, bellino, bellino. L'ho visto. Sì, carino. E quindi appunto mi hanno regalato anche questo. Poi ragazzi, in questo mega pacchetto qua abbiamo, vi faccio vedere subito, un salvadanaio. Dove appunto ci metto... Vedete c'è scritto i soldi fanno girare il mondo. Quindi appunto ci metto i soldi, diciamo, per fare viaggi. Principalmente il suo scopo è questo. Quindi è di quelli che si rompono. Che vanno rotti. Però... Boh, mi dispiace. Mi dispiace, sarebbe romperlo. Comunque molto, molto carino. Poi biglietti vari. E poi ragazzi, i miei genitori mi hanno regalato anche questo. Che sarebbe, ora vi faccio vedere tutto, sarebbe diciamo... O una vacanza con i miei amici, o un tatuaggio, o qualcosa. Insomma, qualcosa che voglio. Io sceglierò ovviamente una vacanza con dei miei amici. Dove voglio, dove voglio. Basta che non sia troppo costoso, tipo il Giappone, però... Dove voglio, sì, diciamo. E poi raga, infine, la cosa migliore, penso, questi due biglietti che mi hanno fatti i miei nonni. Ora non sto a leggere, ve li ho messo una parola che mi hanno veramente colpito. Vi faccio giusto vedere, cioè vedete, sono delle lettere. Vi faccio leggere tutto. E comunque, cioè, è bello vedere quando delle persone care, come i nonni, ti scrivono biglietti del genere. Mi ha fatto un sacco piacere. E, diciamo, mi ha fatto un sacco piacere leggerli. Sono bellissimi, veramente. Bene raga, ecco qua ciò che ho ricevuto per il compleanno. Abbiamo appunto tutti i bigliettini, il cedì, insomma. Il salvadanaio, le sfere del drago, Naruse e la felpa dell'organizzazione Aldo. Ecco qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi, come al solito, di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passatela al profilo Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Passatela al canale di Fra, il chiuso, ve lo lascio qua sotto in descrizione. E andate ad ascoltare il mio album 8.18 e fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo vi saluto, che qua fuori hanno già ricominciato a fare lavori e fanno casino. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.